Nel 2013 è purtroppo ancora molto scarsa la conoscenza che i giovani hanno in merito ai metodi contraccettivi per avere rapporti sessuali sicuri. A fornire informazioni corrette a ragazze, soprattutto under 20, indirizzandole verso un uso responsabile della contraccezione, dovrebbero essere tutti coloro i quali si rapportano con i giovani, genitori, insegnanti, medici di famiglia, ginecologi. A tal proposito abbiamo dunque ascoltato il dottor Antonio Liviero, medico ginecologo e ostetrico. Assolutamente necessario, le mamme devono aprire il discorso appena le bimbe incominciano ad avere i loro primi accenni di cambiamento della pubertà. Oggi la comunicazione attraverso internet ha fatto sì che Facebook e i social network, questi bimbi ormai approcciano anche solamente per moda, senza neanche sentirne il bisogno. Quindi le mamme come se fossero delle donne adulte devono approcciare la contraccezione alle bimbe immediatamente, dai primi perché se non vogliono poi correre il rischio di avere delle spiacevoli sorprese. Piuttosto che mettere la testa sotto la sabbia, meglio parlarne come se fossero delle donne adulte.